Guardarsi le spalle, sentirsi braccati, come la preda di un cacciatore sempre in agguato. Questa è la sensazione che provano le donne vittime di violenza e stalking. Un fenomeno che, assunto dimensioni tali, da dove essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria piaga sociale. Tre i casi che si sono registrati a poche ore di distanza tra lunedì e martedì in provincia di Caltanissetta, che hanno portato all'arresto di un 49enne per stalking e danni di una donna che non ha ceduta alle sue avanza e la richiesta di cure mediche di altre due, una del capoluogo e l'altra di Mussomeli, entrambe picchiate dai mariti. Rompere il muro del silenzio a volte legata alla vergogna e ai pregiudizi e denunciare l'invito della polizia. Lo stalking è stato riconosciuto già dall'anno 2009. Il legislatore è intervenuto introducendo questa nuova fattispecie di reato che consente tanto agli uffici amministrativi, in particolar modo all'ufficio misure di prevenzione della questura, tanto agli uffici giudiziali, di procedere soltanto qualora la vittima del reato segnali o denunce. Le strade che si possono seguire sono alternative, ma ne sono due. Da un lato la possibilità di richiedere, segnalandolo opportunamente, e ci si auguri in maniera particolarmente dettagliata, un ammonimento, oppure denunciare il reato qualora le fattispecie di reato stesse si configurino come procedo di birro d'ufficio. È necessario che la vittima, quando presenta l'istanza di ammonimento la denuncia, deve indicare quali sono stati questi fatti, sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista logistico, quindi dove si trovava, con chi si trovava in modo tale che vi siano dei testimoni che possano attestare quello che è accaduto in quei momenti, dei certificati medici che attestano anche delle lesioni subite, lo stato di ansia e di paura in cui versa la vittima, perché ricordiamoci che l'attivo persecutore è un reato che comunque induce la vittima a modificare le abitudini di vita e che la porta ad avere un grave perdurante stato di ansia e di paura. Quindi insieme a tutta questa documentazione necessaria, quando verrà valutata la fondatezza dell'istanza, verrà ammonito il soggetto, da ricordare che se si tratta di uno stalker già ammonito, la pena sarà aggravata. È necessaria inoltre una stabile rete, c'è ed è necessaria, quindi questa stabile rete di collegamento che abbiamo con i centri e le associazioni presenti sul territorio. La vittima, come alle mie spalle si legge, non è sola ed è necessario che esca dal buio e si renda conto che è una vittima, cosa che molte volte non accade.